Il matrimonio tra la scuola edile CPT dell'Aquila e l'Officina L'Aquila è ormai consolidato. Nella sessione autunnale, come ogni anno, la scuola edile CPT ha accompagnato i visitatori nei cantieri aperti per l'occasione per mostrare i progressi della ricostruzione, ai visitatori soprattutto, ma anche agli aquilani. Assicurarsi del rispetto di tutti gli standard della sicurezza, per fare le visite quindi in sicurezza assoluta ai visitatori, la consulenza alle imprese nel quotidiano. Sono soltanto alcune delle attività del CPT e della scuola edile, che fa anche formazione ovviamente. Molto significativa nei giorni di Officina L'Aquila la presenza di studenti provenienti da tutto il mondo, di un master internazionale di restauro. Presidente Cirillo, ormai il rapporto tra la scuola edile CPT e Officina L'Aquila è consolidato, le visite nei cantieri, voi fornite come sempre un'assistenza per quel che riguarda la sicurezza molto importante. Sì, assistiamo l'Officina L'Aquila, tra l'altro è un matrimonio che ormai dura diversi anni e con grande successo da entrambe le parti. Noi assistiamo proprio i visitatori rispetto alla sicurezza, ma poi ci divertiamo anche a dare qualche spiegazione rispetto a come è stata messa in opera la sicurezza nei cantieri che visitiamo. Diciamo che ci sono due branche, la parte molto importante anch'essa che è dedicata alla formazione e poi questa attiva sul campo nei cantieri per la sicurezza. Possiamo dire che l'esperienza dell'Aquila è un'esperienza positiva anche grazie al vostro lavoro? Sì, sì, io lo dico sempre. È chiaro che appena dopo il terremoto qua si è mosso una macchina forte rispetto alla sicurezza. I risultati negli anni si sono visti. Però non basta mai perché le problematiche sono sempre diverse e impreveribili sui cantieri quindi bisogna sempre avere l'asticella alta. Ormai il vostro rapporto con l'Officina L'Aquila è consolidato. Primo giorno di lavori, una visita che chi interessa questa mattina? Questi ragazzi da dove provengono? Dunque questa mattina abbiamo un primo gruppo che proviene dalla Sapienza di Roma. È un gruppo internazionale di studenti di ingegneria e sono venuti a visitare i cantieri che hanno aderito all'iniziativa Ufficina L'Aquila Cantieri Aperti. Voi come CPT vi occupate di sicurezza nei cantieri. Il vostro compito è anche assicurare che la visita dei ragazzi venga fatta in assoluta sicurezza. Che cosa fate? Dunque come consuetudine ormai con l'Officina L'Aquila abbiamo questa fidelizzazione di scortare tecnicamente il gruppo di visitatori che accedono a visita di questi cantieri e li supportiamo dal punto di vista della sicurezza tenendo conto che dall'auditorium Renzopiano che è il punto di riferimento poi dobbiamo raggiungere i cantieri che sono anche in fase decentrata. Per cui li supportiamo sia per le vie del centro storico cittadino quando questi ragazzi e quando i visitatori di Boraccia sia all'interno dei cantieri assicurandoci che l'apparato sicurezza il sistema sicurezza aziendale del cantiere che ospita sia confacente. Questo per quanto riguarda ovviamente le visite. Voi ovviamente fate questo di mestiere nel senso che nei cantieri poi date anche una consulenza per quanto riguarda proprio la sicurezza. In che modo? L'attività del CPT è proprio questa, quella di assistere quotidianamente alle imprese direttamente nei cantieri, nel loro luoghi di lavoro verificando il cantiere sia dal punto di vista formale, documentale sia poi lo stato di salute dei lavori che si stanno svolgendo. Faccio un esempio, verifichiamo i ponteggi, verifichiamo le macchine, le attrezzature, le cadute verso il vuoto, gli scavi, le impiantistiche lette. Facciamo un check-up del cantiere completamente gratuito per le imprese del sistema Cassedili e un dato recente, l'ultimo monitoraggio a settembre di quest'anno sono 1100 visite di cantiere effettuate nell'arco dell'anno. Quindi abbiamo assistito circa 780 imprese e 1100 cantieri. Voi avete insistito molto anche sui piani di cantierizzazione che sono molto importanti e che vanno fatti prima dell'inizio dei lavori per poter far sì che poi i lavori si svolgano in sicurezza. Per quanto riguarda l'Aquila, l'abbiamo detto più volte, non c'è stato un piano di cantierizzazione unitario all'inizio ma al di là di questo volevamo chiederle quanto è difficile una città come questa conciliare la vita perché ci sono attività commerciali, ci sono residenti che sono ritornati ma la maggior parte della città poi è piena di cantieri. Quanto è difficile conciliare questi due aspetti? Guardi, il nostro ente oltre che essere un ente di sicurezza è anche un ente di ricerca. Siamo partiti in tempi non sospetti con il comune di Villa Sant'Ancelo quando all'epoca il sindaco Biondi ci chiese di dare una mano nelle fasi della cantierizzazione quindi a ricostruzione avanzata e devo dire che ci siamo riusciti con un buon successo. Durante il corso degli anni si è capito che molto probabilmente bisognava intervenire con un piano di cantierizzazione che non trovava tra l'altro esistenza nei piani di ricostruzione e lo scorso anno unitamente all'Università di Ingegneria, alla cattedra di organizzazione di cantiere abbiamo dato un piano di cantierizzazione a livello di studio per il comune di Fontecchio e zona rossa del comune di Fontecchio, con una tesi di laurea di uno studente di ingegneria. L'invernata scorsa abbiamo aderito ad una richiesta del sindaco del comune di Fossa che ha chiesto la predisposizione di un piano di cantierizzazione e tra l'altro le fasi di ricognizione e di studio sono iniziate proprio ieri perché il drone è riuscito a restituirci una buona parte della mappatura e del lavoro che è propedeutico e ieri abbiamo iniziato invece la fase di sopralluoghi tecnici proprio nella zona rossa del comune di Fossa. Contiamo di portare avanti questo lavoro e di concluderlo nella primavera-estate del prossimo anno perché piano di cantierizzazione? Ho premesso che i piani di ricostruzione ahimè non hanno tenuto conto della cantierizzazione cioè non hanno tenuto conto poi della sicurezza di chi doveva ricostruire materialmente le nostre città e i nostri paesi e abbiamo ritenuto invece che questo piano di livello superiore che possa essere di riferimento ai piani di sicurezza e di coordinamento che i professionisti andranno a redigere per ogni singolo comparto dovesse essere invece indispensabile per prevedere per esempio tutta la cantieristica delle maestranze per esempio i locali mensa comune, le vie di fuga che necessariamente debbono essere garantite delle strutture di assistenza per i lavoratori che eventualmente devono essere assistiti durante le loro fasi di lavorazione in definitiva abbiamo cercato di far comprendere che un borgo, un paese, una zona rossa all'interno delle sue mura urbiche dovesse essere considerato come un grande cantiere diffuso e non un solo cantiere o più cantiere a macchia di leopardo questa è la sensibilizzazione che stiamo dando nei confronti di coloro che andranno a ricostruire come per esempio lo stiamo dando nei confronti dei nostri cugini ahimè che sono accumulati dagli eventi sismici, mi riferisco a quelli del 2016 per esempio del Reatino e stiamo sensibilizzando anche loro alla dotazione di questi piani di cantiereizzazione Valentina Scenna è la responsabile dell'area sicurezza del CPT in che cosa consiste il vostro lavoro anche in questo tipo di visite che stiamo facendo per Officina L'Aquila? Allora noi ci occupiamo di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolar modo dei cantieri ovviamente la nostra visita consiste in due fasi la prima fase è proprio dei rischi che riguardano prettamente il cantiere segue la visita documentale quindi se l'impresa adempia tutte quelle che sono le normative e quindi l'8108 per quanto riguarda la documentazione Ecco questo ovviamente per quanto riguarda le visite voi naturalmente come attività quotidiana fate anche consulenza alle imprese in generale che cosa guardate in un cantiere per quel che attiene alla sicurezza? Allora la sicurezza attiva quindi tutto ciò che riguarda il cantiere quindi dal parapetto, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale se il ponteggio viene montato o meno a regola d'arte come può essere adeguato un ponteggio ed apparecchio di sollevamento quindi in generale tutto il cantiere e poi segue questa verifica documentale fondamentale è specificare che le nostre consulenze sono per le nostre imprese iscritte in cassedile Ecco in tutti questi anni di ricostruzione diciamo che le cose all'Aquila sono andate abbastanza bene non ci sono stati grandi problemi neanche incidenti quindi tutto sommato si riesce a gestire bene la ricostruzione in sicurezza Sì beh noi stiamo lavorando tanto e forse stiamo lavorando bene Grazie a tutti